buongiorno buongiorno e buon martedì 23 giugno 23 giugno 1971 c'è una fotografia che vi ho eccola qui su forza milan ho preso una panoramica con le immagini di rivera e pierino prati il braccio e la mente e poi questa partita del 23 maggio del 1971 il milan batte la fiorentina e fa un passo avanti ancora per la finale di coppa italia la fotografia vede pierino prati accompagnato dal dottor monti ha preso diversi falli diversi interventi brutti e proprio forza milan diceva l'ultima partita poi va a curarsi e con tre soldi con dottor monti e pierino prati e pierino prati ieri ha raggiunto il suo massaggiatore e il suo dottore giovan battista gincomonti e e il suo massaggiatore indimenticabile massaggiatore tre soldi l'ha in alto nel cielo perché pierino prati è scomparso ieri e ha velato e ha velato ha quasi oscurato la bella vittoria del milan sul lecce per 4 a 1 4 a 1 quasi simbolica 4 a 1 come il 4 a 1 più più indimenticabile di pierino pratico il 4 a 1 dove ha segnato tre gol ispirato da gianni rivera come ieri il milan è stato ispirato da cialanoglu due differenti carature di giocatori beninteso però 4 a 1 dove il grande protagonista è stato pierino ispirato da rivera e ieri non hanno segnato tre gol i giocatori del milan ma ne ha segnato uno castiglieco su passaggio di cialanoglu poi ha segnato buonaventura su tiro respinto di cialanoglu poi ha segnato rebic su lancio di cialanoglu e poi ha segnato leao su apertura di cialanoglu a conti e palla dentro e quindi 4 a 1 allora 4 a 1 certo una valenza diversa la si giocava la finale di coppa dei campioni contro il grande ajax a madrid qui si cavalecce a porte chiuse senza senza pubblico ma è stato milan non sapeva delle condizioni di pierino non sapevo della scomparsa di pierino ma certamente gli ha esotericamente dedicato comunque il 4 a 1 la vittoria perino prati è stato l'idolo di noi tutti negli anni 60 fino all'inizio degli anni 70 giocatore formidabile generoso osso nero vecchio cuore l'ho visto l'anno scorso a cinisello ha ritirato un premio non stava già benissimo però pierino prati è stato il nostro idolo pierino la peste dicevano e pensate proprio domenica prossima milan roma con le squadre dove lui ha giocato dove lui ha militato dove lui ha esaltato il suo pubblico il milan e la roma sarà un bellissimo omaggio a pierino prati questo milan roma che caso vuole arriva proprio nel momento di per ricordare la scomparsa dio di due di un giocatore che ha fatto felici le folle rossonere e giallorosse quindi abbiamo parlato già ieri della vittoria del milan siamo contenti della vittoria complimenti a pioli perché abbiamo visto un milan che ha tenuto bene fisicamente avendo visto le partite dei giorni precedenti con dei secondi tempi arrancanti delle protagoniste invece abbiamo visto un milan pugnace e pimpante in tutte in tutti i momenti tutti i 90 94 minuti di gioco complimenti ha reagito al rigore che secondo me è stato un po largheggiato dal signor valeri e poi ha replicato sul piano dell'individualità e sul piano della collettivo quel gol di il gol di castiglieco ricordava il fiuto del gol di pierino prati il gol di buonaventura ricordava le respinte di pierino ricordo un gol con la spalla rocambolesco all'ultimo minuto il gol di rebic con questa fuga assomigliava un po' alla fuga a glasgow dietro c'erano i giocatori del celtic lì c'erano i giocatori del del lecce solo davanti al portiere freddo tiro raso terra la tiro alto qua grande rebic e poi l'altro colpo di testa altra specialità di pierino e questa volta è stato leao a onorarla dunque a onorare quindi quattro gol quattro gol bellissimi del milan che così ogni marcatore di gol ha voluto omaggiare il grande pierino che ripeto ieri è mancato quindi un grande omaggio abbiamo vissuto dei dei delle partite meravigliose anche qui abbiamo parlato di andrà incontrare monti e tre soldi ma certamente lo sta aspettando corso mariolino corso scomparso qualche giorno fa per i soliti derby accesi degli anni sessanta indimenticabili splendidi giocati davanti a una folla calda da una folla vociante ieri non c'era nessuno a lecce ma tanti ricorderanno pierino prati per sempre se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti